Carissimi amici siamo tornati qui in questa bellissima spiaggia romagnola siamo tornati con la nostra amica Deborah Donati, ciao! Buongiorno a tutti! Associazione Insieme a te, siamo qui con Deborah perché come ben sapete ormai quest'anno Energiò il ballo che unisce ha sposato il progetto Io ballo per te e quindi invito le scuole che ancora non l'hanno fatto, i gruppi di amici, le associazioni che vogliono partecipare iscrivetevi perché poi il ricavato andrà a questa bellissima associazione di cui scopriamo un po' ogni puntata Deborah, come è nata questa associazione? Associazione Insieme a te nasce nel dicembre 2017 attraverso l'esperienza che ho avuto con mio marito Dario che lui era malato da 5 anni di SLA e nell'estate 2017 insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di percorrere 800 km per arrivare alla prima spiaggia accessibile in tutta Italia che era quella della Puglia quando siamo arrivati là, che è stato un grande traguardo, un grande sogno ci siamo chiesti ok perché allora fare tanti chilometri quando in realtà abbiamo una riviera che è grandissima e qui è nato comunque il sogno di poter comunque realizzare questo sogno anche qua in Romagna e allora mio marito era già molto grave e quindi a gennaio siamo partiti con i primi diciamo progetti in comune abbiamo presentato il progetto comunque alla regione Emilia Romagna dove comunque veramente abbiamo accolto consenso di tutti fin da subito fino ad arrivare comunque a Pasqua e mi ricorderò sempre venerdì santo quindi era un pezzo di spiaggia libera che era comunque stato dedicato a questo progetto e mio marito ci ha lasciato il lunedì santo però comunque con la consapevolezza che avremmo comunque portato avanti lo stesso questo progetto e il primo anno abbiamo aperto un mese, il mese di agosto abbiamo avuto 110 ospiti e io come dico sempre ogni sorriso dei nostri ospiti io lo rivolgevo sempre al cielo perché era comunque un grazie io dico sempre del mio Dario e quindi ecco che poi le cose poi trovano un senso col tempo beh certo, infatti siamo in questa spiaggia perché quest'estate sarà fiorita di volontariato di ragazzi giovani, di ragazzi meno giovani, tutti uniti per un fine comune vedete dal niente come dico sempre può nascere con un gesto d'amore tantissimo e deve essere una gran soddisfazione ed estate puoi vedere tutto il giro, il vortice di persone che hai intorno perché sono davvero tanti è meraviglioso, io dico sempre la mia fortuna che poi ci ha aiutato anche nella malattia di Dario è che abbiamo avuto sempre tante persone vicine le abbiamo avute durante la malattia e tuttora ci sono anche dopo che insomma si è realizzato questo progetto quindi è un continuo, quindi quando ci sono cose belle vedo che la gente comunque partecipa perché fa bene, tutto questo fa solo bene fa bene, fa bene ed è bellissimo, sono bellissime queste parole diciamo è contagioso è contagioso, queste parole di Deborah fanno bene io come dico sempre ho avuto l'opportunità di conoscere l'anno scorso per caso venendo qui e devo dire che poi come ho detto poi con lei mi sono innamorata ma di quello che si respirava, nessuno faceva vanto di sé o nessuno metteva la propria persona al primo posto era tutto un'unione di persone che lavoravano per un fine comune e devo dire che quello che mi ha affascinato è stato i commenti delle persone disabili sulle carrozzine eccetera la loro gioia, il loro entusiasmo e mi ha fatto pensare che molte volte poi siamo noi che ci poniamo dei limiti perché magari noi non riusciamo a godere di un pomeriggio di mare lo facciamo da annoiati quando queste persone emanavano solarità ed è stato davvero un bel simbolo ecco perché quest'anno io ballo per te va insieme a te quindi aspetto che vi iscriviate numerosissimi Deborah sarà con noi anche nelle prossime puntate e ogni volta ci racconterà un po' di sé Deborah grazie grazie a voi per questa bella occasione grazie grazie